Ciao bimbe, ci siamo finalmente, stiamo per dichiarare la vincitrice del mio contest, qui di fianco a me c'è Patrick, saluta. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ok, ragazzi, eh beh sì, sì sì, la mia solita unghia. Allora, come avevo anticipato sulla mia pagina Facebook, ho scritto un post stamattina, abbiamo deciso insieme io e Patrick praticamente di far scegliere a lui la vincitrice in modo che non fosse assolutamente influenzato perché io comunque magari alcune le conosco, riconosco i nomi dalle foto, ci sono quelle con cui parlo più spesso, quelle che invece non conosco quindi per essere totalmente strana alla faccenda ho fatto vedere a lui le 20 foto perché siete stati in 20 a partecipare e abbiamo appunto deciso di, secondo il suo, non ho capito con che criterio, il suo gusto non va bene così È stata una scelta molto complicata direi Ecco, allora per ora siamo arrivati a una scrematura, abbiamo mantenuto, abbiamo, ah, mantenuto Sì, sono rimaste adesso 5 foto che adesso ve le facciamo vedere Che sono rimaste appunto tra 20 che erano quelle che secondo me sono più belle, più fatte bene È emozionato il ciccino la sua prima volta Comunque adesso cosa accadrà, vi facciamo vedere le 20 foto rimaste Dopodiché stoppiamo un secondo, lui credo sappia già Sì, io ho già scelto su queste 5 Creiamo un po' di suspense Mi scelte due Ok, quindi adesso vi facciamo vedere quali sono queste 5 Dopodiché stoppiamo un secondo, lasciamo le 2 e poi vi lasciamo, ecco qua Queste sono le 5, scusate, eh, dall'iPad, sono le foto dall'iPad Quindi accontentatevi dell'inquadratura Penso che bene o male le riconosciate se siete presenti Quindi niente, adesso ne stoppiamo un secondo Che ne rimarranno 2 No, poi anche non stoppare Adesso io mi muovo direttamente Ok, allora aspettiamo un attimo Che manteniamo le 2 Spero di non creare problemi o fastidi a nessuno Ho usato questo metodo, abbiamo scelto insieme di usare questo metodo Proprio appunto per tenere me il più imparziale possibile Cioè io difficilmente sarei riuscita a rimanere tanto, tanto, tanto imparziale Ovvio, con tutta la buona volontà Facendo così ho pensato in tutta onestà Ho detto, beh, speriamo che non ci siano polemiche Quindi ci sono Adesso vi faccio vedere le 2 Su cui il mio occhio si è soffermato di più Su queste 2 creazioni Che anche a primo impatto Come è girato la foto Mi ha fatto, diciamo, scattare Quella cosa in più Che carine, bello proprio Girano così non si vede la crepa dell'iPad Dell'iPad distrutto Quindi ci siamo Facciamo vedere le 2 rimaste Eccole qui Eccoci qua E va bene Quindi Ok, vabbè Io so entrambe qua Chi sono Quindi vuoi dire diretta? No, posso cliccare in questo momento La creazione che secondo me ha vinto Mettiamo un po' di suspense Sennò si vede il tuo dito che va a cliccare Fai così Fai così, sceglila Non so Dai però No, vado a bere un bicchiere d'acqua No, no, perché stanno aspettando loro Allora ti metto subito la vincitrice Ok, gira No, si gira Si è girata Ci siete? Ci siamo Lui l'ha aperta Ho visto proprio Ha cliccato in un secondo E ha aperto la foto Non se... Ci siamo? Ci siamo? Partiamo da un angolo Un angolino Un angolino Un angolino Eccolo qua La vincitrice È Melissa Melissa Campagnolo Moon Rose Creation Penso che la conosciate tutti E quindi tanti complimenti Melissa Complimenti veramente Sono piaciuti tantissimo anche a lui Vabbè a me piacciono A prescindere Perché i colori sono i miei colori Però per questo È stato meglio che scegliesse lui Guardasse lui le foto Soprattutto anche l'abbinazione di colori Tre tipi diciamo di azzurri Tutte e tre presenti Nelle gocce Nelle gocce Nella parte centrale Belle, belle Veramente Bellissime Quindi complimenti Melissa Poi ci sentiamo in privato E complimenti comunque a tutte quelle Che hanno partecipato Mi dispiace Ci saranno No, li sparerà lei Perché ha vinto Ma che ne so io Vabbè Comunque Grazie per aver partecipato a tutte Ci saranno altre occasioni Non solo con gli schemi di Etsy Anche con quelli gratuiti su YouTube Quindi Grazie E alla prossima Ciao Ciao